Ciao ragazzi, video di recensione di questa cinghia che serve per portare a tracolla le nostre macchine fotografiche che costa veramente un sacco di soldi mi sembra che le ho pagate una sessantina di euro secondo me sono proprio tanti i soldi per 60 euro per una cinghia soprattutto perché la Canon già te ne dà in dotazione con qualsiasi macchina una abbastanza buonina però ho deciso di spendere lo stesso a questa cifra perché io le cinghie non le uso mai proprio perché mi dà fastidio mettere quell'accetto e togliere quell'accetto che bisogna passare nei bordini qua della macchina fotografica bisogna prendere il laccio, inserirlo dentro e ripassarlo questa cosa qua non è un'operazione lunga se sei capace a farlo o la fai spesso io non lo faccio mai perché ho direttamente rinunciato a usare la cinghia perché la maggior parte dell'utilizzo che ne faccio è sui cavalletti e quindi quando mi capita quelle poche volte mi fa perdere tempo quindi mi dà fastidio e preferisco non farlo anche perché l'utilizzo adesso nella macchina fotografica se vado in giro io me la prendo me la appendo col soggettino qua che è della stessa marca che è della stessa marca di quella che produce sta dragolla e effettivamente si chiama pitch design eccolo qua vedete che c'è scritto qua e effettivamente ha delle soluzioni abbastanza costose però diciamo di qualità top diciamo quindi funzionano bene funzionano bene non si rompono sono fatte per durare si fanno pagare forse un po' troppo però sono fatte per durare allora andiamo a vedere in modo semplice qual è l'idea di questa cosa qua l'idea è che tu puoi facciamo vedere al volo su sta vecchia gh4 e tu puoi inserire il laccetto facendo una specie di cappietto intorno ok passo dentro anzi fammi ci insomma un po' col cellulare tutti i video che faccio al volo col cellulare quindi non mi vedrete fare in questo video tante prove e tante foto però ecco magari questo tipo di inquadratura qua magari da altre parti non l'avete vista che si vede nel dettaglio come funziona come entra allora il funzionamento è veramente quasi quasi banale da qui entra dentro e perché ha successo? perché pur non essendo materiali che stupiscono perché la qualità di questa plastica non è stupefacente è un pezzettino di plastica abbastanza normale però evidentemente abbastanza resistente per la funzione a cui è dedicata e quindi funziona, niente si rompe e quindi la gente poi gli lascia le recensioni positivi va bene qui c'è una bella cucitura qui è in pelle qui la plastica ugualmente non sembra stupefacente non assolutamente non è questo che si stringe ma è la base sotto che è molleggiata una plastica molleggiata questa molleggiatura fa sì che trascinandola si abbassa e poi scatta verso l'alto e la incassa nel suo alloggiamento alloggiamento che evidentemente non si deforma nel tempo e con l'utilizzo immagino perché se no non costerebbe così non avrebbe recensioni positive per questo prezzo io chiaramente queste cose ve le dovrei dire dopo un mese che lo provo ma so leggere le recensioni e quindi evidentemente è un prodotto che se non ha deluso quelli che hanno speso tutti questi soldi prima di me evidentemente non gli si è rotto non gli ha fatto pescare la mattina a terra concetto semplicissimo quando vogliamo togliere la nostra bedella vogliamo lasciarla appoggiata sulle spalle e noi riusciremo così viene fornito con di questi bottoncini voi ne avrete cinque il che vuol dire che noi potremo metterli intanto nel libro un altro mentre fa vedere la qualità del cordoncino il cordoncino all'interno ha un'anima particolarmente resistente e viene dato per tenere vediamo zoomiamo 200 libri che equivalgono a 90 kg quindi immagino che uno tiene 90 due di queste terranno 180 kg il che vuol dire che con due di queste io mi potrei anche appendere a fare l'altalena potrei fare l'altalena tranquillamente appeso semplicemente con questi due bottoncini attaccandomi sulla cintura andiamo a passare questo di qua quindi al primo sguardo al primo sguardo uno dice vabbè poi dopo diviene sta cosa 90 kg all'uno 180 kg respect respect eccolo qua noi abbiamo la nostra macchina fotografica che sarà leggermente appesantata in questo modo mi domando se io faccio video se io faccio video se può generare rumori no niente di particolare dai ragazzi si può sopportare che ci stanno questi bottoncini qua però a sto punto è meglio tenerlo visto che faccio video con la parte che penso la aderente qua o esterno che passa dall'esterno forse aderente rimane più ferma intanto alla finita all'esterno è una finita più e più rincorsa e me fa più rumore se fosse ma non credo di di avere questo problema qua del rumore perché le macchine fotografica giustamente si possono utilizzare anche per fare video no e quindi potrebbe essere questo problema allora andiamo alla penda così ok premo e click premo e click molto semplice è veramente immediato questo qua l'inserimento l'ho detto quasi banale ma si potrebbe dire anche quasi geniale perché sono riusciti con un meccanismo molto intuitivo e pratico a risolvere un problema che tutto sommato le Nikon le Canon le Panasonic non hanno risolto no mi dici ma costa poco farlo poco costa poco e ho capito ma ci potevano pensare ci poteva pensare la Canon che sicuramente magari avrebbe venuto qualche macchina fotografica in più invece mi ha fatto spendere tutti questi soldi perché non ci aveva pensato andiamo a vedere qua questa parte qua che è sia liscia sia zigrinata questo zigrinato mi avvicino così con lo zoom facendo un po' rumore è una serie di scalini di un di un materiale gommoso gommoso che dà molto attrito ok lo vedete così è una cosa gommosa proprio come se fosse gomma solo che è intermittente questo fa sì che se lo usate con questa parte qua sulla spalla avrete un determinato attrito rimarrà più ferma se la usate con questa parte liscia sulla spalla potrete muovere la camera magari quando la tirate su vi scivola sulla spalla e quindi potrete fare un movimento molto più veloce ma secondo me io ho visto che tutti quelli che facendo una dimostrazione usano tutti quanti la parte liscia e non la parte gommosa però vi danno la scelta è facile passare da così a così al secondo chiaramente di come mettete mettete la la cosa però per come è strutturata a me mi dà l'idea che è fatta proprio quasi tutti la useranno la useranno con questa parte addosso al corpo forse questa parte zigrinata se avete sopra una giacca vi potrebbe far trito sulla giacca non ho capito bene l'utilità di questo zigrinato va bene lo scoprirò per l'uso per quello che mi riguarda a me se non ho nessuna giacca sopra l'utilizzo che ne faccio qua si è scontato qua la parte che non dà attrito la parte che dà attrito misteriosa secondo che perché se la metto così attrito io qui ho una presa al contrario cioè se io la mettessi non così ma così e io mi ritroverei tutto rigirato e sarei scomodo a estrarre perché sarebbe verso l'interno non verso l'esterno quindi la parte zigrinata perché c'è non lo so non lo so tutti quanti le recensioni che ho viste anche in inglese dicevano così scivola così c'è attrito però se io la uso con l'attrito non è equivalente mi se gira pure di qua e qui non è la stessa cosa perché qui vedete che c'è c'è questa levetta che non è un blocco perché quella scorre scorre avanti e dietro allo stesso modo questo qua questo scorre più giù o più su esattamente sia se la levetta è giù vedi va su e giù idem proprio uguale uguale non c'è non c'è differenza l'unica cosa che dà questa levetta che c'è uno scatto lo scatto è dovuto al fatto che qui c'è un pallino faccio vedere il pallino c'è un pallino sia di qua che di là e qui c'è a leggera forma dove va col pallino entrando dentro gli fa fare questo scatto che lo fa allo stesso modo da una parte all'altra ma non blocca assolutamente niente quello che ti dà è che se tu gli fai fare lo scatto hai una presa per poter scorrere giù ok quindi invece di prendere dal bordo insomma non sarebbe difficile però puoi fargli fare questa cosa qua ok poi ti vuoi sollevare prendi qua e c'è una presa differente rispetto a prendere così so piccoli dettagli però insomma quando hai preso un prodotto premium ti può piacere anche questa cosa qua materiale della cinghia è buono qui dentro ha un'ulteriore imbottitura di un materiale sembra un materiale plastico elastico dentro vedi se a base non è un cartone è un materiale una specie di silicone molto morbido quindi la parte che va sulla spalla non è male allora vi dicevo che dentro abbiamo anche questo qua ce n'è anche un terzo perché questo qua questo terzo bottoncino quinto sarebbe perché in totale sono quattro così in totale ce ne sono quattro di questi quindi vanno su due macchine e su una delle due macchine puoi decidere anche di metterne uno sotto ho visto dalle recensioni in inglese che dicevano che apprezzavano particolarmente questa opzione di mettere il bottoncino sotto e con questo viene fornito anche una brucoletta l'opzione del bottoncino sotto la trovano particolarmente utile quando si portano ottiche molto grandi tipo quelle ottiche la bianca della Canon i super cannoni con tutti quelli estremi perché la macchina se è che la porti così davanti a te a mucio proprio davanti a te se la porti dietro la schiena la prendi e la fai girare in modo che ti va dietro la schiena il modo per farla rimanere diciamo più in modo che l'ottica ti va giù verso i pantaloni parallele ai pantaloni così è utilizzando questo qua ok quindi chi ha ottiche molto grandi e preferiscono metterla la tracolla messa dietro la schiena ho visto che gli piace anche quest'opzione qua di di metterla sotto è un modo diverso di di girarsi la camera proviamo un po' a fare la prova adesso questa la largo ok metto qua e qua ok questo se noi ci abbiamo la nostra tracolla è la cosa normale la macchina ce l'abbiamo così nel caso io invece allora togliamo il destro 132 coerente ok questa qua che ha detto adesso è la glicemia di mio figlio che sul cellulare me la dice ogni tanto me la dice la glicemia di mio figlio 132 ecco vedete come si mette quindi io se io prendo la macchina vedete come si mette se io me la metto un po' dietro al fianco giro la 5 in modo che mi va a finire nel fianco della gamba gira in un modo differente quindi questa può dare un comfort differente quindi nel caso la tracolla non è così sopra così ma è laterale della spalla qui va la spalla dietro qui a finire mi passa dietro spalla avanti spalla invece di stare tutte e due così davanti invece qui mi va rimane davanti e questa invece mi va dietro quindi in diagonale mi ritrovo la macchina che mi andrebbe mi andrebbe a girare in questo modo così e quindi potrebbe essere un modo diverso un modo diverso di tenere la camera ok vi dico non l'ho mai provata ancora però io credo che la prossima volta che mi andate in giro a fare fotografie penso che una prova gliela do la chance di essere provata gliela do senz'altro e vediamo soprattutto quando magari metto delle ottiche delle ottiche un po' pesanti vi dico che ne esistono sono molto gettonate quelle più piccole sono gettonate perché ci sono tre tipi di cinghie c'è piccola media grande quelle grandi questa qua è grande proprio come cosa e penso che è la meno venduta a parte costa di più penso che è la meno venduta però la media è quella più gettonata di tutte che va bene per la media dovrebbe andare bene per macchine tipo queste anche con un'ottica un po' più grande così questa magari è pur esagerata per macchine tipo questa dimensione qua lo potrei utilizzare con la mia Canon R5 con una delle con una delle ottiche quelle un po' più pesanti e questo l'utilizzo insomma che faccio quando vado in giro quando vado in giro mi piace mettere delle ottiche fisse l'85 fisso il 50 fisso queste qua e quindi spesano un po' e potrebbe risultare comodo una volta provare questa anche ok va bene ciao medici grazie